Non ti permettere più, non mancare più di rispetto alle mie sorelle. Guai a te se vengono a lamentarsi un'altra volta. E basta pure con questa perdita di tempo. Mo' sei una donna sposata, devi pensare alla casa. Io? Se me lo facessero fare... Ah sì? E perché le tratti così quelle, poverina? Perché tu sei letterata e loro no? Pasquale, io devo stare tranquilla. Eppure io devo stare tranquillo. E tante lettere che vanno e vengono dentro questa casa. E non mi fare parlare. Devo stare tranquilla come moglie e come madre. Perché non viviamo da soli, Pasquale? Io tengo certi doveri anche verso le mie sorelle. Ma quando te ne sei accorta? Quindici giorni fa. E chi aspettavi a dirmelo? Prendiamoci una casa tutta nostra. Ma come faccio? Non posso. Un po' di pazienza. Ti avevo promesso una serva? Ho sbagliato a vendere certe terre. Ho fatto più di una fesseria. Signor, io non sono sporca. Non mi voglio lavare. Vi andiamo, andate qua. Lo sai che l'acqua medicata l'usano le più grandi dame inglesi? Ma bruciolucci. Sai che c'è scritto sull'etichetta? Liquore ineguagliabile South Hall contro le cimici. Vabbè, mi avete convinto. Però mi lavo solo io perché non metto scuro. Posso toccare? Porta fortuna. Vedeva tutto. Maria non rispettava i patti matrimoniali. Grazie a tutti.